Ci sono delle cose in questo capitolo 1078 di One Piece che non mi sono proprio piaciute. Intendiamoci, sono delle piccolezze, sono delle piccole problematicità che magari non inficciano nulla e che possono tranquillamente essere spiegate anche già solo immediatamente nel capitolo successivo di One Piece. Però, poiché di un paio di queste cose ne abbiamo anche discusse nel corso della Blind Reading Reaction su Twitch, mi pareva comunque il caso avere questo confronto anche con voi qui su YouTube, tenendo conto comunque che soprattutto una di queste cose è veramente molto soggettiva. Le altre due invece, secondo me, possono, diciamo così, ambire ad essere, se non dei piccoli buchi di trama, delle cose che obiettivamente magari funzionano poco o che sono un pochino macchinose, ma andiamo dritti a bomba. Una delle cose che proprio non mi è piaciuto dal punto di vista della gestione narrativa e non solo è come funziona l'autorità di controllo dei Serafini. Oda ci ha spiegato, One Piece ci ha spiegato, che c'è una sorta di piramide gerarchica che consente di dare degli ordini a dei Serafini e questi ordini possono essere unicamente bypassati dalla persona che ha una autorità di controllo superiore a chi ha dato l'ordine stesso. Per cui, se quelli del CP0, un Lucci a caso, dà un ordine ai vari Serafini di attaccare Rufi, Cappello di Paglia e i suoi sodali, questo ordine non può essere revocato da nessuno che ha un'autorità di controllo pari a quella di Lucci stesso. Quindi Kaku, Stussi, magari i membri come Gernica oppure come Bruno Pizzul e Salvatore Variale non possono in alcun modo revocare quell'ordine di Lucci perché non hanno un'autorità superiore a Lucci stesso. Da un certo punto di vista, io la capisco anche come idea in senso generale, ovvero per bypassare quell'ordine hai bisogno di uno che è più importante di te. Però, da un punto di vista veramente pratico, secondo me, fare in modo che solamente una persona possa dare l'ordine e quell'ordine non possa venire revocato se non dalla persona stessa oppure da chi ha un'autorità superiore è un vulnus gigantesco. Perché, cioè, faccio un esempio veramente molto stupido. Metti caso che nel corso di una guerra definitiva totale tombale uno dei cinque astri di demenza ordini ai Serafini di accoppare, faccio un esempio proprio stupido, Barba Nera. Metti che Siga Saturn ordina di accoppare Barba Nera e poi Siga Saturn viene accoppato. Nessuno degli altri quattro astri di demenza può fondamentalmente ordinare ai Serafini di non accoppare più Barba Nera perché magari gli serve per fare esperimenti. Cioè, immaginatevi questa cosa perché non c'è nessuno che abbia un'autorità superiore. è veramente un vulnus gigantesco e questa cosa con i Vegapunk si è vista. Cioè, fa abbastanza ridere che nessuno dei Vegapunk potesse bypassare gli ordini dati da York e che quindi fondamentalmente siano stati tutti accoppati grazie a questo ordine dato dalla nostra mangiona e dormitrice preferita. Ma vabbè, può piacere, può non piacere. Mi sembra un po'... troppo macchinosa la cosa secondo me è veramente poco senso. Però magari su questa cosa fatemi sapere voi so io che probabilmente mi faccio troppe pippe mentali. Però c'è una cosa che una pippa mentale magari non è. Ovvero, nel capitolo 1078 e scusatemi se ogni tanto ancora tossisco ma ho ancora i postumi della morte e nel capitolo 1078 scopriamo che la traditrice è quella che ha bypassato tutti i controlli di Eged perché chiaramente aveva utilizzato l'ordine di PN e insomma con lei che ha creato tutto il casino su Eged è proprio York e quindi è lei che è andata in giro ad accoppare gli altri Vegapunk è lei che ha dato gli ordini ai Serafini per fondamentalmente far scoppiare il casino è lei che ha abbassato le difese è lei che fondamentalmente ha tolto di mezzo tutti i sistemi di sicurezza è stata colpa sua. E abbiamo visto e questo sarà diciamo il terzo punto che non è che mi sconfinferà tanto abbiamo visto che c'era proprio lei dietro tutte le manovre che da tre mesi a questa parte stavano macchinando tutti i sotterfuggi di Eged c'è però dal mio punto di vista una piccola falla che di nuovo questa può essere spiegata in qualsiasi momento da parte di Oda e magari potrebbe anche essere spiegabile immediatamente ovvero il fatto che nel capitolo 1067 Vegapunk quello originale ci raccontava che non solo tutti i sei Vegapunk quindi Yorg, Pitagoras Lilith, Shaka Edison e Atlas erano e sono suoi cloni con la sua stessa personalità solo che riescono a fare fondamentalmente sei volte il lavoro che può fare lui perché ognuno è specializzato in un determinato ambito ma che grazie a Punk Records non solo lui il Vegapunk originale ma tutti e sei i suoi cloni si connettono una volta al giorno e veniva proprio specificato per condividere sincronizzare e quindi inserire all'interno del cervellone del Vegapunk originale quelle che sono le loro esperienze e le loro conoscenze questo cosa vuol dire che andando a fare evidentemente una ricerca all'interno di Punk Records si sarebbe potuto scoprire che Yorg non era solo quello che magnava cagava pisciava trombava probabilmente non si sa ma era anche quella che effettivamente aveva chiamato i 5 astri di demenza aveva chiamato il CP0 e aveva detto guardate che Vegapunk qua sta facendo tutti gli scherzetti con il secolo vuoto guardate che è quello che sta studiando i Poneglyph vedete che cosa dovete fare ora com'è facilmente spiegabile questa cosa potrebbe essere facilmente spiegabile tenendo conto del fatto che è vero che ogni giorno si sincronizzavano tutti è vero che ogni giorno la loro conoscenza le loro esperienze i loro pensieri andavano a finire su Punk Records ma evidentemente Punk Records proprio come lo spiega poi effettivamente anche Vegapunk è come una grande biblioteca quindi bisognava andare a vedere tutti i giorni che cosa pensavano che cosa avevano detto che cosa avevano fatto tutti e sette Vegapunk evidentemente nessuno ha fatto questa cosa cioè nel momento in cui magari da un punto di vista tecnico da un punto di vista scientifico si doveva attingere a determinate esperienze oppure a determinati tipi di conoscenza allora magari si poteva avere accesso a quello che Shag aveva pensato il giorno X Lilith aveva pensato il giorno Y Pitagoras aveva ideato il giorno Z eccetera 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 evidentemente nessuno 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 e questa potrebbe essere la spiegazione andava a vedere di giorno in giorno che cosa avevano pensato gli altri Vegapunk rimane comunque dal mio punto di vista un piccolo vulnus perché proprio tenendo conto del fatto che Vegapunk stava facendo questi esperimenti questi studi sul secolo vuoto sul regno antico proprio lo stesso Vegapunk doveva comunque magari immaginare di mettere su se stesso o sullo stesso Punk Records una sorta di non lo so di dispositivo di sicurezza per cui se qualcosa fosse andato male ecco magari lì ci sarebbe potuto essere un allarme però questo fa anche capire una cosa forse ovvero il fatto che al netto che abbiamo parlato stiamo parlando di questa grande epopea dell'isola del futuro che è l'isola del passato l'isola della scienza lo scienziato più in gamba dell'universo del mondo di One Piece 500 anni avanti del futuro in realtà è caduto vittima neanche diciamo così di se stesso neanche di una stessa creazione ma è caduto vittima della sua stessa umanità mi verrebbe da dire proprio perché York rappresenta il desiderio umano rappresenta proprio l'avidità dell'essere umano quindi rappresenta comunque la parte avida di di Vegapunk stesso e quindi poiché Vegapunk è avido di sapere è avido di conoscenza essendo comunque York quella proposta solo magnaca capiscia e quindi a soddisfare diciamo così i più basici istinti evidentemente questi più basici istinti sono talmente ingigantiti per cui lei ecco vuole essere l'unico Vegapunk vuole diventare un drago ceste quindi esattamente come Vegapunk vuole raggiungere probabilmente le più alte vette della scienza lei vuole raggiungere le più alte vette da essere umano quindi questa potrebbe essere una eventuale spiegazione per me rimane un piccolo vulnus comunque da qualsiasi punto la si guardi però una probabile spiegazione potrebbe essere tranquillamente questa nessuno ha controllato Vegapunk si è fidato troppo di se stesso e come spesso accade questo forse è un insegnamento è una sovralettura quando si è troppo sicuri di se stessi e lì si cade questa potrebbe essere una soluzione cioè praticamente mi sono fatto una domanda mi sono dato una risposta da solo non mi piace però questa potrebbe essere una soluzione e poi c'è l'ultima cosa che è estremamente soggettiva lo voglio specificare per quanto il capitolo 1078 dal punto di vista proprio della costruzione del capitolo secondo me sia stato molto interessante perché di fatto presenta una sorta di doppio cliffhanger ovvero la prima parte del capitolo è ancora incentrata sullo scontro con i serafini per farti capire che comunque i serafini sono potentissimi non sono potenti quanto i mugiwara ma sono gli esseri attualmente più potenti dell'universo del mondo di one piece cioè rufi versione gear 5 gli dà le cinquine abbiamo visto lo stesso sanji rimane lì tranquillo per la gioia di dell'imelo si prende i pugni insomma sono fortissimi i serafini ma loro sono comunque più forti ce la faranno a sconfiggerli e quindi c'è tutta questa prima parte che continua ancora a farti vedere lo scontro e poi c'è questa parte centrale con questo spiegone dove Oda in due barra tre tavole ti fa tutto sommato il riassuntone di tutti i misteri che erano lì sotto traccia di questi ultimi venti capitoli di one piece per poi arrivare allo svelamento di chi è diciamo così il traditore ovvero York mi ha lasciato un po' perplesso perché di nuovo la costruzione del capitolo in sé è interessante è una costruzione tripartita per arrivare a questo doppio colpo di scena il colpo di scena della risoluzione di York ma soprattutto cercare di high party per questo fantomatico incidente di egghead che scuoterà il mondo però da lettore di one piece di lunga data chiaramente sono rimasto un po' perplesso perché invece di haiparmi per questo futuro incidente di egghead invece di haiparmi come dovrebbe essere in realtà per questo futuro incidente che scuoterà il mondo mi ha lasciato diciamo così abbastanza freddo perché perché questa rivelazione è alla fine di un pippone è alla fine di un riassunto voglio spiegarmi meglio quando Oda ha fatto sempre questo giochino di foreshadowing o quantomeno di flash forward mi verrebbe da dire avvero ti ha anticipato un qualcosa che avverrà nell'immediato futuro te lo ha sempre fatto vedere mostrandoti però una porzione narrativa ben precisa del mondo di one piece ovvero perché ti haipava sapere nel volume cos'è 45 46 che lo scontro tra barba nera e dace avrebbe provocato un cataclisma inenarrabile perché lo scontro con barba nera e dace te ha fatto vedere Oda cioè lui ha impiegato quei due tre capitoli per farti vedere loro che si menavano e alla fine dopo il clash tra i loro colpi migliori c'era la didascalia che ti diceva e questo scontro tra i due provocherà un grande cataclisma e dice ooooh incredibile che cazzo sta per succedere adesso oppure mentre si era a Sabaudi c'era Doflamingo lì che leggeva il giornale era tutto felice e diceva che cosa vediamo nel futuro si presagisce lo scontro tra la flotta dei sette e barba bianca e tu sei tutto lì che ti fai i pipponi oddio incredibile incredibile hanno preso Ace adesso ci si scontra ma perché? perché lo scontro con Ace l'hai visto hai capito che barba nera ha portato Ace alla marina e lì ci sarà lo scontro e poi finisce come finisce allo stesso allo stesso modo in cui dopo Dress Rosa quindi dopo che Oda ti ha per bene piazzato e ti ha fatto conoscere tutti quelli che sono i comandanti della fantomatica flotta di Rufy vedere la didascalia che ti dice che questi personaggi cresceranno sempre di più fino a collimare in un grande incidente che scuoterà il mondo tu sei tutto lì che ti fai super pipponi perché? perché personaggi li hai visti invece dal mio punto di vista lo sottolino per la 770esima volta vedere questo questo disclaimer alla fine di un pippone mi lascia abbastanza inutile perché se questo incidente deve avvenire questo pippone era fondamentalmente inutile non c'era bisogno di anticiparti che domani nel mondo di One Piece ci sarà il fantomatico incidente di Eged bastava farcelo vedere l'incidente di Eged cioè bastava farci magari anche il pippone su quello che era successo per arrivare a York come diciamo così lei è colpa sua e invece questo pippone messo lì così per farti pare che adesso sta per arrivare l'incidente di Eged domani succede si scuote il mondo messo così mi dà diciamo così l'impressione opposta è molto anticlimatico anche perché ora io mi aspetto veramente un cataclisma totale tombale mi aspetto guerra morte navi esplosioni ammiragli contra ammiragli ecco no Siga Saturn mi aspetto Rufy che si picchia con tutti se no che incida oppure non lo so qualcuno l'altro giorno diceva sarebbe interessante se fosse proprio Vegap anche esattamente come Clover Aowara che venisse accoppato perché sta per rivelare tutta la roba ecco del secolo potrebbe essere interessante una cosa del genere non lo so però messa così in questo modo mi lascia un po' perplesso mi lascia un po' perplesso però è quello che penso io sono queste tre cose che non è che mi hanno fatto proprio ululare di gioia tant'è vero che quando ho letto il capitolo 1078 e chi era presente in live forse mi ha visto che sono rimasto un po' freddo proprio perché almeno su di me quello che doveva essere magari il grande svelamento di quello che sta per accadere tra poco vi facciamo ululare messa così non ha funzionato poi che se immagino a tutti voi sia piaciuto a me mi ha lasciato un po' freddo però vedo l'ora di vedere che cosa succederà vedo l'ora a questo punto di vedere comunque questo grande incidente vediamo Oda che cosa ci riserverà e fatemi sapere voi però che cosa ne pensate se sto scemo io se capisco un cazzo se sono deficiente immagino qui sotto i commenti i godi di One Piece non rompere i coglioni però fatemelo sapere lasciandomi il sempre eterno commentino qui sotto su YouTube oppure su Instagram sono Mobuda e se siete arrivati alla fine di questo video hashtag non capisci niente così siamo contenti alla prossima ciao 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 Grazie.